Siamo con Enzo Marcello, direttore generale dell'ASD Pianura Calcio, qui nelle immagini. Ecco quest'oggi si giocano i play-off, i play-off importanti contro la Virtus Marano. Qual è la sua opinione in base anche al campionato per questo raggiunto traguardi importanti? Sicuramente la base di partenza è essere arrivati qua, giocarci la possibilità di andare in finale e quindi giocarci il salto di categoria eventualmente in finale. Riguardo alla partita di oggi, sono sicuro che sarà una partita bella vincente perché comunque sono due realtà che nel corso di questo campionato hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto al resto della gradatoria. Quindi metteremo in campo l'anima e tutto quello che occorre per cercare di fare questo risultato che è difficile però può essere alla nostra portata. Ricordiamo che a Pianura esistono molte società calcistiche che in realtà emergono nel calcio napoletano. Voi quest'anno veramente avete impiegato tutte le energie importanti e necessarie per far fronte giustamente a questo campionato 2015-2016. Sì, assolutamente. Affrontare un campionato di calcio specialmente a livelli semi-amatoriali come questa è una terza categoria. Insomma, parliamo di calcio popolare. È un qualcosa di complicato, di difficile. Però è ancora un mondo in cui ci occorre tanta passione. Noi ce l'abbiamo messa tanta e grazie a questo gruppo così importante abbiamo raggiunto questi risultati, questi traguardi e questo... I nostri colori sociali sono... Bianco-azzurro. Invece abbiamo praticamente il logo. Raccontiamo, descriviamo. Sì, il logo raffigura praticamente San Giorgio che è il santo patrono di Pianura e noi siamo orgogliosi di averlo sul nostro petto poco come fosse un tatuaggio. Lui ci guida, ci protegge e fa sì che possiamo mettere in campo l'impegno che mise lui nella famosa leggenda.